Nel corso degli ultimi 3 o 4 mesi ho utilizzato come monitor principale questo nuovo schermo di AUK che si chiama CU34P2C un nome complicato per uno schermo davvero di buona qualità con un pannello da 34 pollici formato 21 noni di cui vi racconto oggi tutti i dettagli in questa recensione completa Iniziamo anzitutto a parlare di costruzione e di design come vedete lo stile è davvero molto pulito, sobrio e minimale perfetto per adattarsi ad ogni tipologia di scrivania sia per una postazione da lavoro che per una postazione da gaming lo stand è realizzato in plastica, ha delle dimensioni abbastanza compatte e questo lo rende facile da posizionare su una scrivania anche in una non grande come la mia poi braccio in metallo che ci permette di regolare altezza, inclinazione ed angolazione del monitor devo dire che lo stand è davvero quindi ben realizzato e le possibilità di trovare l'inclinazione e la posizione perfetta sono davvero eccellenti troviamo poi sul retro anche un attacco VESA, potete quindi decidere di fissarlo ad un braccio o ad una parete per quanto riguarda gli altri aspetti di design non c'è moltissimo da dire cornici ridotte al minimo su tre lati nella parte inferiore troviamo il logo del produttore e poi la classica pulsantiera che ci dà accesso ad un menu ben realizzato che ci fornisce interessanti possibilità di personalizzazione sul retro troviamo una parte di connettività abbastanza completa infatti una display port 1.2, un HDMI 2.0 una porta USB-C 3.2 con power delivery fino a 65W quattro porte USB standard una porta USB di tipo B poi un jack audio in uscita da 3.5 che ci consente quindi di collegare cuffie e casse direttamente allo schermo parliamo un attimo della funzione dock grazie alla porta USB-C con power delivery possiamo connettere con un singolo cavo il nostro PC portatile io l'ho utilizzato con il mio MacBook alimentarlo, trasmettere audio e video e soprattutto possiamo utilizzare anche le porte posteriori come hub USB è una funzione particolarmente comoda che utilizzo praticamente in tutti i monitor che provo e che trovo assolutamente indispensabile se dovete utilizzare uno schermo collegandolo ad un PC portatile funziona bene, è completa e vi tornerà sicuramente molto utile l'unica mancanza sotto il punto di vista delle porte è quella dell'Ethernet sarebbe stato bello avere anche una connettività Ethernet sul retro in modo da renderlo perfetto per chi vuole sfruttare al massimo la propria connessione e predilige la connessione via cavo rispetto a quella Wi-Fi non è una grande assenza ma è giusto segnalarlo prima di parlare del pannello vi dico anche che sul retro ci sono due speaker da 3W che non mi hanno fatto impazzire ma che se dovete fare un ascolto di base di un video su YouTube o di una serie TV su Netflix sono sufficienti se però volete utilizzarlo per lavorare o per avere delle prestazioni audio importanti vi conviene o collegare delle cuffie o collegare delle casse di qualità superiore per quanto riguarda la qualità del pannello devo dire che AOC ha fatto davvero un ottimo lavoro innanzitutto è un pannello VA da 34 pollici formato 21.9 con risoluzione Wide Quad HD quindi parliamo di 3440 x 1440 pixel a questo si aggiunge una luminosità massima di 300 nits un refresh a 100 Hz e un tempo di risposta di un millisecondo copertura dell'aria gamut di 120% dell'RGB e 89% dell'Adobe RGB nel complesso quindi tanti dati tecnici per dire che ci troviamo fra le mani un pannello di ottima qualità personalmente ho utilizzato tutti gli schermi con una monitor lamp per avere una migliore illuminazione della mia postazione di lavoro ho avuto delle prestazioni davvero eccezionali mi è piaciuto davvero molto il pannello ha soprattutto dei colori ben tarati è un ottimo contrasto e dei neri abbastanza profondi che ci consentono sia di utilizzarlo in ambito lavorativo anche per video e foto editing anche se il foto editing non è l'ideale in questo formato di pannello con buoni risultati e soprattutto ci consente di utilizzarlo anche in gaming nel tempo libero con risultati davvero piacevoli uno dei punti dei pannelli ultra wide che tendo a valutare attentamente è la curvatura del pannello solitamente troviamo alcuni pannelli soprattutto quelli da gaming che hanno una curvatura abbastanza pronunciata questo di AOC invece non ha una curvatura esagerata e l'ho trovata particolarmente comoda in ambito lavorativo infatti si riesce a sedersi di fronte alla scrivania e vedere entrambi i lati senza dover gerare la testa o senza forzare particolarmente la vista e quindi nel complesso il pannello è davvero buono per quanto riguarda la mia esperienza di utilizzo l'ho utilizzato col mio pc fisso con Windows 11 principalmente per il gaming e a cui devo dire che ne sono rimasto molto contento perché anzitutto va pregiato che sono un casual gamer l'ho utilizzato con Fortnite con Warzone e con League of Legends quindi poca roba però la qualità del pannello è buona il tempo di risposta è buono il refresh rate è buono non sono prestazioni da gaming da schermo professionale ma si riescono ad ottenere risultati davvero interessanti piacevoli e anche una buona immersività grazie alla curvatura senza nessun problema ovviamente se avete un hardware adatto a fare girare un gioco ad alta risoluzione su questa tipologia di pannello che comunque ha una risoluzione parecchio alta l'ho poi utilizzato con il mio MacBook Pro M1 Pro da 14 pollici ovviamente connesso con cavo USB-C utilizzando il Power Delivery e qui ho voluto sfruttarlo al meglio con il multitasking lavoro praticamente sempre con almeno due finestre affiancate ed avere 34 pollici che mi permettono di avere due finestre di grandi dimensioni oppure anche più finestre ma comunque con delle dimensioni abbondanti è davvero importante e devo dire che ne sono rimasto assolutamente soddisfatto questa tipologia di pannello per il multitasking e per l'utilizzo professionale è davvero eccellente arriviamo quindi alle conclusioni il monitor di AUK CU34P2C è perfetto per un utilizzo misto potete utilizzarlo nell'ambito business lavorativo con più applicazioni con più foglie di calcolo più applicazioni aperte a schermo potete utilizzarlo se volete fare video editing se volete una timeline particolarmente estesa ma potete utilizzarlo anche nel gaming senza ovviamente le pretese di un pannello dedicato a questa tipologia di utilizzo ma sempre con soddisfazione nel complesso è uno schermo che mi è piaciuto davvero molto e che vi consiglio sicuramente di acquistare se state cercando un pannello di questo tipo soprattutto adesso che è sceso un po' di prezzo infatti il prezzo ufficiale di AUK è di 600-19€ ma è facile trovarlo online fra i 450 e i 470€ a proposito vi lascio qui sotto il link in descrizione per l'acquisto su Amazon spero che il video vi sia piaciuto se è stato così vi chiedo la cortesia di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale vi garantisco che per voi sono dei piccoli gesti ma per noi di Out of Beat sono degli enormi riconoscimenti vi lascio in descrizione il link per l'acquisto su Amazon come vi dicevo la recensione completa testuale con tutti i dettagli tecnici e una prova un po' più completa di quella che vi ho raccontato oggi nel video e poi tutti i link ai nostri canali social da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto grazie e alla prossima ciao 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 ciao